grande effetto eccoci qua nella cucina del grigio il grigio chef sono io come ingredienti semplici grande effetto oggi orecchiette con i broccoli cosa serve 500 grammi di broccolo due filetti di acciuga del peperoncino 320 grammi di orecchiette olio sale e pepe e direi che questo primo è proprio semplice come ingredienti veloce gustosi orecchiette si le orecchiette si possono fare con le cime di rapa buonissime oppure anche con i broccoli buoni bene prima cosa da fare filo l'olio l'olio qui abbondante ecco qua e poi andiamo a tagliare i nostri broccoli in questo modo così allora io taglio lei li divide a metà oppure lei lei li cosa fa lei decide ok benissimo taglio io la metà proprio taglio in mezzo perfetto bravissimo ecco qua chiaramente abbiamo già preparato acqua salata bollire per cuocere le nostre orecchiette si spostichi io inizio a mettere ancora il nostro olio ecco qua perfetto prendiamo anche un nestro di acqua facciamo cuocere per un 6 7 minuti nel frattempo iniziamo a sminuzzare l'acciuga e il peperoncino poi andiamo ad aggiungere benissimo li mettiamo insieme ai nostri broccoli prendiamo un peperoncino questo coltello cavolo pulita no sì ma ritogliamo i semini che sono quelli che poi danno più fastidio vedete che è un po poco tagliamo un altro anche questo lo andiamo ad aggiungere perfetto bene salatina tritatina basta perfetto diamo ancora un mestolo di acqua e direi che a questo punto possiamo buttare già le lacchiette 12 minuti di cottura le lasciamo andare 8 9 minuti e poi questo tempo i broccoli continuano a cuocere poi li uniamo insieme poi finiamo la cottura perfetto benissimo quindi via subito con l'orecchiette ora l'orecchiette il galletto ha suonato continuiamo un paio di minuti la cottura iniziamo a pulire la differenza no le puliscono anche questo qua come fa lei di solito ho preparato il piatto dove andiamo a mettere questo bellissimo sotto pentola non c'è quella chef assistà perfetto molto bene via piano piano vediamo filo d'olio e a questo punto cotto speriamo grazie Alla prossima ciao